vediamo ora un altro esercizio il secondo dove si dice data una stringa sempre quelle a multilinne composta da vedete che ci sono delle sequenze di numeri per ogni linea e dice infatti considerare che ogni riga della stringa rappresenta una matrice quindi una lista di liste di numeri i punti e virgola segnano la fine di una riga le virgole separano gli elementi di una riga stampare tutte le matrici con a capo opportuno in forma matriciale appunto quindi in questo caso questa è una matrice 3 per 3 con prima riga 1 2 3 seconda riga 4 5 6 terza riga 7 8 9 questa è una matrice 3 righe una colonna che ha 3 tutti in verticale questa è una matrice 2 per 2 4 4 5 5 e questa invece è una matrice una riga per quattro colonne dove ho appunto tutti i numeri in una sola riga voglio stampare queste matrici con appunto a capo opportuno di nuovo si tratterà di fare uno split lines e degli split per virgola e punta e virgola per delimitare tutti i vari punti della nostra matrice provate a pensarci un attimo e tra un secondo vediamo la risposta scrivo la risposta direttamente in questo file qui creo la mia matrice dicevamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poi va da capo 1 1 2 2 2 proviamo a fare una matrice colonna adesso tipo 3 3 3 3 3 3 3 e 1 invece riga ok così dovremmo avere esaurito un po' tutte le possibilità di questa cosa partiamo subito quello split lines e stampiamo data di conseguenza ok quindi lascio perdere la parte di sopra adesso vedo che ho diviso appunto questa è una lista di stringhe questa è la prima stringa che contiene la prima matrice questa è la seconda stringa terza stringa e quarta stringa ok quindi a questo punto posso dire per ogni matrice in data ma adesso m rappresenta questa prima stringa ok per prima cosa la voglio dividere per il punto e virgola in modo da isolare le singole righe e avere quindi il momento di andare a capo ok quindi ad esempio potrei fare righe è uguale ad m punto split punto e virgola in questo modo righe adesso rappresenta di nuovo una lista di stringhe che conterranno rispettivamente 1 2 3 poi 4 5 6 7 8 9 ok questo punto potrebbe una prima versione potrebbe essere quella di fare per ogni riga in righe voglio stampare r quando ho finito di stampare una matrice ci metto un'altra print per separare meglio le singole matrici il risultato vedete che viene già quasi perfetto ok ho le mie ho le mie ho la mia matrice stampata tutte le mie matrici stampate appunto in foro matriciale qua c'è giusto uno potrebbe commentare il fatto che questo r qua in verità ancora non l'ho splittato per la virgola e convertito magari in numero ok sono ancora delle stringhe r ognuna di queste r è l'intera stringa 1 2 3 dal punto di vista visivo non cambia niente sono sempre stringhe però in verità non potrei fare delle operazioni con queste matrici per fare delle operazioni avrei nuovamente bisogno di dividere ognuna di queste righe per le sue componenti con la virgola e poi eventualmente convertire il numero ok quindi ad esempio potremmo fare una cosa di questo genere lo chiamo rr ok è una è una lista ottenuti in questo modo list comprehension faccio per ogni elemento della riga per ogni elemento della riga ottenuta dallo split con la virgola prendi la conversione in intero adesso rr è una lista di interi ok quando stampo questa cosa qua mi ha messo le parentesi quadre però adesso questo 1 qua è veramente un intero potrei fare operazioni con queste con queste con queste stringhe ok un modo d'esempio comodo per togliere queste parentesi quadre potrebbe essere di scrivere una cosa tipo strrr converto la cosa in stringa e poi voglio rimpiazzare le parentesi quadre col niente e rimpiazzare le parentesi chiuse sempre col niente in questo modo ritorno alla versione senza parentesi quadre perché le ho cancellate ok vedete rimpiazzare la parentesi quadra con la stringa vuota e a tutti gli effetti come cancellarla e però ho fatto diciamo tutto il lavoro nel senso che rr adesso è effettivamente una riga di numeri che costituisce la riga della matrice ok ok ok